Tentata violenza sessuale su una minore a Catania, dove i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza un uomo di origini marocchine per tentata violenza. A consentire l'intervento dei carabinieri è stata una segnalazione telefonica pervenuta ieri pomeriggio alla centrale operativa. Nella telefonata l'interlocutore segnalava che un uomo si era introdotto nel campo nomadi di via San Giuseppe Larena, importunando sessualmente una ragazza minorenne. Subito i carabinieri sono giunti sul posto e prese notizie utili per rintracciare l'aggressore, si sono messi alla ricerca dell'uomo, individuandolo poco dopo ad un centinaio di metri dal campo nomadi. Dalle testimonianze ottenute nell'immediato, pare che l'aggressore fosse entrato segretamente nella zona dove le donne curano l'igiene personale, facendo esplicita avanza alla minorenne. Mentre si trovava sotto la doccia, l'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Piazzalanza a Catania, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno invece arrestato nella flagranza la 32enne messinese Angela Pietropaolo, poiché è ritenuta responsabile di furto aggravato. La donna, infatti, equipaggiatasi di una sacca e opportunamente schermata per ingannare il sistema antitaccheggio, ha rubato della merce dagli espositori del punto vendita Bricomen nell'area commerciale del centro Sicilia. Grazie alla collaborazione fra gli addetti alla sicurezza dell'esercizio commerciale e i carabinieri, una pattuglia è riuscita a bloccare in tempo la donna mentre tentava la fuga. La merce, del valore di oltre 500 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile dell'attività commerciale. L'arrestata, in attesa della direttissima, è stata trattenuta in camera di sicurezza.